Bentornati cari amici di Economia d'Italia, oggi parliamo del perché ieri, in particolare per voi l'altro ieri, perché sto registrando appunto oggi che è il 25 ottobre, il prezzo del gas è calato fino a raggiungere un risultato negativo, quindi il prezzo del gas prezzava in modo negativo. Come mai è successa questa cosa abbastanza strana? Beh sul web se ne legge di ogni, in particolare stando sempre al web la motivazione più acclarata sarebbe quella del price cap dinamico che avevamo già trattato qualche settimana fa su questo canale, magari vi lascio qua il video dove ne abbiamo già appunto discusso. Ebbene il motivo per cui vediamo questo prezzo del gas scendere è dato da tanti aspetti, come al solito quando ci sono eventi così drastici non ci può essere soltanto un elemento che spiega nella sua totalità appunto il realizzarsi di un singolo evento, ma ci sono più con cause. Sicuramente un elemento importante è stato un eccesso di offerta a breve termine, poiché appunto gli impianti di stoccaggio europei sono quasi pieni in questo momento, in particolare nei paesi dove avviene la maggior parte della reglassificazione come Spagna e Francia abbiamo riscontri su questi elementi. Quindi i prezzi del gas naturale sono stati persino scambiati in territorio negativo. Ma attenzione perché molti di voi potranno pensare bene ho un eccesso di offerta quindi significa che la crisi è finita perché la crisi parte dal lato dell'offerta come abbiamo spiegato più volte. La risposta ovviamente è no, perché? Perché la situazione dei flussi è ancora molto molto critica. Infatti se andiamo a fare un rapporto col 2021 ci accorgiamo che l'attuale flusso, almeno in Europa, è diminuito di circa il 25%. Un altro elemento che ci dovrebbe far riflettere sul fatto che appunto non sia il price cap ad aver ridotto i prezzi è il fatto che il GNL viene fornito soprattutto da due nazioni. La prima nazione è l'Australia e la seconda nazione è il Qatar. Ma queste due nazioni hanno già clienti a sufficienza a soddisfare appunto la loro produzione. Infatti l'Australia serve gran parte nel far bisogno di GNL dell'Asia orientale, mentre Qatar serve l'India, Giappone e Cina, che appunto sono i tre maggiori clienti del Qatar. Dopodiché abbiamo un'importante presenza anche degli Stati Uniti d'America, che fornisce molto GNL, ma è difficile che riesca a colmare completamente il divario nel breve periodo. Infatti per quanto gli Stati Uniti stiano dando un importante apporto sul mercato spot, questi non possono colmare la riduzione così importante del apporto del gas russo, almeno a livello europeo. Inoltre ci sono altri elementi che concorrono alla riduzione di questo prezzo, perché oltre a questo eccesso di offerta spot, che vi avevo già raccontato in miniera se vi ricordate, parlavamo appunto di queste navi di rigassificazione che non trovavano modo di scaricare il loro prodotto, ecco oltre a questo fatto c'è sicuramente la temperatura che gioca un ruolo chiave. Infatti il fatto che ci sia una temperatura tutto sommato superiore alla media del periodo di riferimento, ecco permette alle famiglie di consumare molto molto meno. E quindi ovviamente si va a ridurre la domanda. A questo poi si affiancano anche alcuni provvedimenti a livello europeo di risparmio, che sicuramente non hanno un apporto fondamentale all'equazione, ma allo stesso tempo non possiamo considerarli marginali, come ad esempio l'aver spostato in avanti l'accensione dei termosifoni. Infatti questo genera un minimo effetto aspettativa, cioè se io penso che il prezzo del gas andrà ad aumentare in futuro, nel mio modello di analisi devo considerare il fatto che questa accensione avverrà appunto in futuro. O comunque con un periodo slittato di un certo X temporale rispetto a quello che era il caso normale, il caso baseline a cui mi sto riferendo. Dopodiché potremmo dirci che un altro aspetto interessante che può essere entrato in questo prezzo è sicuramente l'effetto anche delle banche centrali, che aumentando i tassi di interesse vanno a deprimere la domanda. Agli occhi attenti sicuramente non sarà sfuggito che ovviamente questo andamento non si realizza da due settimane. In particolare se vedete una volta raggiunto il punto di massimo di questa funzione abbiamo visto continuamente una decrescita del prezzo del gas. Questo perché? Perché l'Europa ha cambiato le sue catene di approvvigionamento e quindi da una fase di crescita ecco che vediamo una riduzione continua del prezzo del gas. Possiamo dirci tranquillamente che non soltanto questo eccesso di offerta ha generato quell'effetto che abbiamo visto sul mercato, ma che appunto esistono anche diciamo delle congetture che vanno oltre le ultime 3-4 settimane. Questo però ovviamente come vi spiegavo poco fa non va a determinare una situazione tale per cui vedrò un prezzo del gas tutto sommato sotto controllo. Anzi è molto probabile che in una fase successiva si vada a generare un aumento del prezzo del gas. Anche qui rifacendoci al grafico è abbastanza evidente che vi siano delle situazioni cicliche in cui il prezzo del gas aumenta e diminuisce con una certa ripetitività. Direi che questo è tutto per oggi. Se volete approfondire la tematica sul lato italiano, ieri abbiamo fatto un altro video in cui ne parlavamo. Vi invito a recuperarlo e noi ci vediamo domani alle 12 sempre per un nuovo aggiornamento. Vi ricordo inoltre che abbiamo realizzato finalmente il podcast. Lo trovate nel primo commento linkato. Lo trovate quindi su tutte le maggiori piattaforme di podcast che hanno appunto un feed RSS. Veniteci a ascoltare anche lì perché magari qualcuno non sempre ha tempo di guardare i video da YouTube. Io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e noi ci vediamo domani. Se ti piace quello che facciamo ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione. Ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti. Ma non solo. Perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine perché manteniamo ciò che promettiamo. Con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti. Basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. Grazie mille a tutti. Grazie.